Il mister aveva detto in conferenza stampa prima di questa partita che questa squadra non tradisce, non l'ha fatto? No, penso che abbiamo dato comunque continuità al gioco espresso a Intella, a Chiaveri. È normale che a Chiaveri purtroppo abbiamo giocato per 50 minuti senza un uomo, quindi con un uomo in meno, e quindi abbiamo faticato un po' di più. Però oggi è stata una grande risposta agli ultimi minuti della partita di Chiaveri e siamo contenti. La partita ha sofferto, una vittoria da grande squadra questa dopo due sconfitte e il Frosinone ha rilassato la testa. Noi dobbiamo pensare soltanto al nostro campionato senza guardare le altre. Dobbiamo continuare soprattutto con questo carattere perché così ci togliamo grandi soddisfazioni. Il corso è adesso non si è terzi. Eh dai, è andata bene così. Diciamo che questa vittoria, che è la cosa più importante, è che siamo riusciti a non subire gol, che era un po' che subivamo gol. È una vittoria importante che comunque dedichiamo anche a Paganini e Brighenti, che comunque sono sempre con noi, anche se dovranno stare fuori per un po'. Ci racconti che è stato un animo di fatti? Cosa? Che è stato un animo di fatti? Eh, è dispiaciuto perché c'è il derby e voleva giocarlo. Quindi è dispiaciuto, però crediamo in massimo lo stesso, quindi pensiamo soltanto al derby tutti insieme. Lui ci darà una mano anche se non ci sarà in campo. Quanto è importante questa vittoria anche in ottica del derby, ricreare con l'entusiasmo in vista di una partita così delicata? È importante, è importante perché dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati, perché comunque siamo forti e dobbiamo giocare a testa alta, giocarcela con tutte. e niente, il derby è una partita a sé. Adesso questa settimana la prepariamo al meglio e poi ci sarà la partita e bene. Un'ultima a livello fisico, hai sentito un po' di dolore, ho visto che avevi interrotto per un momento il gioco. Adesso come stai? Cosa era successo? No, no, ho preso una botta, adesso va meglio. Grazie.